Eccoci ancora insieme questa mattina per parlare di poesia, un tema che interessa moltissimo in Veneto, almeno a giudicare dal numero di persone e di interessi che si sono mostri intorno a alcune iniziative, una l'abbiamo appena presentata appunto Lieto Colle, un'altra adesso la vogliamo vedere insieme con Fernanda Ferraresso che è una poetessa e che è anche promotrice di un luogo di incontro di tutte queste sensazioni di poesie, non soltanto di poesie ma proprio anche di impressioni. Buongiorno, è piacere di essere qui. Lei si è riferita al blog di Carte Sensibili in cui ci occupiamo di molte manifestazioni d'arte, dalla pittura alla scrittura. Tra l'altro informo per la regia, abbiamo qui anche il sito internet a cui si sta facendo riferimento. E siamo un blog abbastanza nutrito di cui fa parte anche Anna Maria Farabi, Vittoria Ravagli, cioè ci sono dei nomi anche parecchio noti e altri, ognuno ha un settore specifico di cui si occupa, appunto dalla poesia alla pittura, alla scultura, tutte le arti e le discipline in cui l'uomo si, come posso dire, si cerca e si espone agli altri cercando un dialogo, appunto, tra punti di vista diversi, tra emozioni diverse che poi muovono ad altri incontri, perché pensiamo che la cosa fondamentale nella vita, di cui è fatta la vita, sia appunto la relazione. È una cosa di cui si sente la mancanza, tra l'altro. Sì, si sente la mancanza e in effetti io penso che i network siano proprio l'espressione di questa ricerca di una relazione. Anche se poi si parla di virtualità, in realtà ci sono persone che si pongono e si propongono in maniera realistica, cioè sono loro stesse e quindi che li si incontri dal vivo oppure attraverso un blog non c'è molta differenza, sono le stesse persone. Per cui il nostro Carte Sensibili vuole proprio essere sensibile a questa necessità. Ecco, di cosa parlate? Quali sono i temi che in questo momento stanno animando questo blog? Beh, ci sono delle mostre in atto, per cui Silvio Lacasella, che appunto uno dei nostri collaboratori che si occupa d'arte, sta prendendo di mira le diverse mostre che ci sono non solo in Veneto, ma proprio in tutta Italia e le sta proponendo con delle letture critiche particolari, quindi non solo vado a vedere la mostra e vedo in superficie, ma proprio fa un percorso approfondito, diciamo. E invece chi frequenta queste pagine? Sono gli addetti ai lavori oppure c'è anche veramente un mondo che si muove intorno? No, no, le persone sono diversissime, cioè possono essere altri autori, artisti, ma anche persone che, insegnanti, allievi, persone che cercano magari un argomento in rete e capitano lì. Per esempio abbiamo avuto in una sola giornata, che era appunto l'anniversario di Brancusi, visite per 10.000 persone, cioè conteggiate appunto dalle statistiche, nel blog in cui appunto avevamo presentato Brancusi con degli articoli diversi e quindi poi molti sono venuti a chiederci appunti, punti di riferimento a cui noi avevamo... Quindi vengono proprio a cercare l'approfondimento, vengono a cercare il contatto e il confronto, diciamo. Anche, oppure capita che persone che non si vedono da tantissimo tempo, che magari hanno frequentato l'università insieme e poi si sono trasferite per questioni di lavoro, si incontrino per caso attraverso un articolo che hanno letto e allora vengono a chiedere a noi di carte sensibili di poter raggiungere questo amico e intanto dialogano attraverso il blog, attraverso i commenti che il blog permette di fare. Ecco, lei invece come... quest'anima social, diciamo così, si trasforma in un'anima sociale quando lei diventa autrice e qui abbiamo alcuni dei libri che lei ha scritto, tra l'altro abbiamo questo ultimo, Mare Marmo, che è uscito da poco, credo. Sì, è uscito quest'anno, nel 2014 proprio, poco tempo fa, ma in aprile. E poi migratorie non sono le vie dell'Ucea? Quello è il più vecchio e riguarda un'altra casa editrice, il Ponte del Sale, che è di Rovigo, quindi proprio in Veneto, curata da Marco Munaro, invece l'ultima è un... Nell'Ucea, nell'Incuria, che è qui in alto. Sì, la casa editrice è leccese, quindi siamo dall'altra parte dell'Italia. Beh, l'importante non è il luogo dove nascono, l'importante è che nascano, insomma, che si divulghino. Sì, il fatto è che, per esempio, l'ultimo che è nato, nell'Ucea e nell'Incuria, ha impiegato una ventina d'anni per essere pubblicato, mentre gli altri, Mare Marmo, quattro anni, migratorie, anche quello... Ma quattro anni perché lei ci ha messo tempo a scrivere o perché c'è stata difficoltà poi per pubblicare? No, no, perché prima di inviarle in lettura, perché ovviamente la stampa è legata prima alla lettura e all'accettazione da parte dell'editore dell'opera che hai proposto. Io, per quello che mi riguardava, non la ritenevo all'altezza e quindi non la aspettavo... Non si sentiva pronta a pubblicarla. E quindi, appunto, c'è questo tempo. Ecco, qui c'è un'immagine di Venezia con... che poi non so se si è di Venezia o è un rosone romano, forse mi sbaglio io. Sì, sì, no, è di una chiesa salentina, quindi siamo proprio in provincia di Lecce. No, avevo visto male, devo dire la verità, che sembra più un rosone effettivamente che non ha niente a che fare con Venezia, anche se nel lusso e nell'Incuria si sarebbe ben adattato perfettamente all'immagine della città che tante volte insomma meriterebbe... Ma non è la sola, non è la sola città. Questo libro come nasce e cosa ci si trova dentro? Nel lusso e nell'Incuria? Allora, ci sono il lusso che ognuno di noi ha, non tutti, devo dire, però se poi uno cerca nel profondo il lusso lo trova perché è se stesso e quindi il lusso di aver avuto a disposizione una famiglia, di aver avuto una casa, di aver avuto un percorso di studi, eccetera, magari poi la formazione della propria famiglia, quindi i figli, eccetera, quindi tutto quello che è la normalità che tutti possono vivere. Tutto quel lusso magari di cui non siamo neanche consapevoli. Esatto, che invece ha, io l'ho chiamato la madia di Maya, perché appunto è come una dispensa in cui ognuno può trovare l'oggetto quotidiano o la persona che è abituata a vedere in un altro modo, cioè la propria coscienza lo fa vivere in una maniera così aperta e ci ritrova l'universo dentro, che poi è il proprio universo, perché io penso che noi vediamo tutto ciò che ci sta intorno attraverso un riconoscimento di quello che siamo, non possiamo vedere quello che non ci appartiene già per ciò che siamo. E quindi questa per me era appunto la madia di Maya di cui ognuno ha disposibilità. La seconda parte invece, che è l'incuria, e quindi dal lusso si passa all'incuria, è questo disamore per ciò che si ha e l'abbandono di tutto ciò che invece costruisce, perché è una costruzione costante che noi facciamo, perché la vita non è che sia delicata o morbida, è anche violenta spesse volte. E quindi l'abbandono che noi facciamo di questa ricostruzione, perché ogni giorno dobbiamo affrontare questa ricostruzione. e quindi la ricchezza è quello che dicevo prima, questa relazione che noi abbiamo con le cose, con noi stessi, con gli altri, in una costruzione, in una tessitura continua. La cosa profonda anche di questo suo ragionamento è che perdendo questo lusso di cui non siamo neanche consapevoli, alla fine si perdiamo anche un po' noi stessi, si perde un po' il bandolo della matassa. Esatto, noi siamo uno dei nodi, a me piace vedere questa parola come il suo rovescio, oppure la riflessione diventa doni, anagrammata, quindi noi che siamo nodi diventiamo anche doni, per noi stessi ma anche per gli altri, solo che ci poniamo nella posizione di formularci, di costruirci ogni giorno, ogni attimo. Quindi diciamo come poetessa, io la vedo come un osservatore in realtà, mentre prima abbiamo parlato di una poesia di introspezione, di ricerca interiore, questa ricerca senz'altro è rivolta verso se stessa, ma è molto rivolta verso la società, gli aspetti più evidenti, diciamo così, delle manifestazioni collettive. Perché penso che ognuno di noi sia tutti gli altri, cioè io penso che l'uomo non sia un essere isolato, l'individuo, è perché io vedo video proprio come adesso, siamo all'interno di un'immagine, un campo corto di me stesso, mentre in realtà sono un uomo continuo, quindi sono tutto quello che è stato prima di me e addirittura tutto quello che sarà poi, proprio come diceva prima, i nodi, sono uno legato all'altro nel filo, e quindi non posso dirmi fuori da questa catena, da questo legame, perché sono indissolubilmente insieme con il tutto. Ecco, mi piace tornare anche a Mare Marmo, perché tra l'altro lei ha affrontato nella sua paesia un tema che crea un grande conflitto nel nostro paese, lo ha creato all'inizio, lo sta creando adesso, lo creerà sicuramente nel futuro, il tema anche dell'immigrazione, del confronto con gli altri, con chi arriva, con la diversità. Ho pubblicato proprio in Carte Sensibili una gif animata, adesso non so bene dove si è posizionata, adesso lo proveremo a trovare intanto che lei parla. In cui c'è la visualizzazione del movimento delle placche terrestri, e quindi dalla placca dell'Africa, che è proprio l'elemento, diciamo così, focale, su cui dobbiamo focalizzarci, si staccano le altre placche e si mettono in migrazione sull'acqua, perché abbiamo questo movimento continuo. Non la trovo, glielo dico, perché... Non importa, comunque c'è chi volesse cercarla, la troverà. C'è questo movimento delle zolle, che si mettono in migrazione, quindi la terra nella sua costituzione è una migrazione di terre, quindi noi non siamo queste isolette separate, ma siamo, come posso dire, un elemento che ha cominciato a muoversi e ancora si muove. Nel suo insieme la terra si muove nel cosmo, è in migrazione costante, ognuno di noi ha un pensiero che migra da sé ad un altro, da un altro a sé, e poi li gira nel corpo, in una migrazione continua di elementi che diventano proprio corporei, e poi però, nel momento in cui noi vediamo arrivare da noi persone che come noi, soprattutto noi veneti, ma molti altri in Italia, si sono spostati, per esempio, nella mia famiglia, penso che sono più i miei parenti che sono all'estero di quelli che sono residenti in Italia, perché appunto sono migrati in epoche diverse, in Australia, in Venezuela, in Argentina, negli Stati Uniti, in Sudafrica, in Belgio, potrei continuare a lungo. Per cui, noi siamo consapevoli di questi movimenti, movimenti di persone che cercavano fortuna, cioè hanno stato migliore per vivere, e non eccettiamo questi altri, che si muovono per gli stessi motivi, anzi più tragici, perché nei loro paesi c'è la guerra, c'è la tirannide, c'è il lager proprio, di cui noi abbiamo una memoria. Come ne usciamo, secondo lei, da questa cosa? Secondo me è proprio, rivedendo la terra come un paese unico, non una divisione territoriale e nazionalistica, come siamo abituati a fare, per questioni di potere, che è un falso potere, e di una ricchezza, che è una ricchezza che invece è globale e complessiva. e quindi una disponibilità verso l'altro, che è disponibilità anche verso la terra, il suolo in cui ci troviamo. Senta, come ho fatto prima con Augusto Pivanti, vorrei anche con lei, avere la possibilità di leggere qualcosa, dal libro Mare Marmo, e che racconta, diciamo, quello che lei ha detto adesso in prosa, sostanzialmente, mi sa che lo ritroviamo in poesia, in questo pezzo che andiamo a leggere. Sì, questa è la sintesi, che poi è la premessa al viaggio, di cui parla appunto il libro. La corovana viaggia da tempo, brucia materia umana, nessuno ormai ricorda il giorno dell'inizio, ricordare significherebbe perdersi, si viaggia di giorno e di notte si ripete il passo, mentre altri emigranti ingrossano il corpo di quella nera serpe, corpo di genti diverse, uomini con la pelle scura, e la testa fasciata da turbanti pensieri, senza confine, e donne ammantate da un velo, li veste la fuga dalla peste della guerra, tutti scappano dal morbo della miseria, e viaggiando abbandonano qualcosa di se stessi, nessuno sa dirsi sicuro, arrivare ad una meta è il luogo che sognano, è un'oasi la vita, il deserto il loro dentro, e intorno senza parola di gigli, un silenzio agghiacciante, rotto dalla voce di animali, selvatici gli uomini in armi, danno a loro ordini, li ingabbiano come bestie, l'orrore è il carnefice pronto ad ucciderli, così la notte nel passo svelto di ognuno mette un segno nel cammino, corri è il suono di quel verbo, e nessuno osa rallentare il suo piede, strettamente vive assieme al braccio, nel presente di ogni gesto, il luogo che abitano, solo le stelle fisse, quasi dormienti, basse, sopra le loro teste, sono lanterne certe, sulle incerte orme, e alla meta li conducono. Grazie per questa lettura così profonda, e così toccante, purtroppo non abbiamo nemmeno più tempo, per stare qui a commentare, però spero che questo sia l'inizio, di un rapporto che ci porterà lontano. Me lo auguro anche io per tutti. Grazie. Grazie a Fernanda Ferraresso, e grazie a voi di essere stati con noi questa mattina, e buona giornata.